Oltre due mesi di grandi eventi, spettacolo, sport, musica, ma non solo, ma soprattutto eventi a 360 gradi e per tutte le età. Sì, quest'anno abbiamo deciso di regalare un calendario davvero importante, molto variegato, per accontentare tutti i gusti e tutte le fasce d'età. Ci saranno artisti di caratura nazionale, ma anche molti artisti locali che amiamo comunque far esibire, anche per dare spazio a chi è del territorio. Dopo due anni in cui siamo stati precauzionalmente attenti per quello che riguardava tutto quello che ruotava attorno all'emergenza Covid, quest'anno abbiamo voluto in qualche modo riprendere un percorso che avevamo lasciato nel 2019, peraltro una stagione da ricordare, coronata dal concerto di Giovanotti, che è stata una tappa importantissima, non soltanto a livello comunale ma anche nazionale, e abbiamo appunto voluto riprendere un percorso regalando alla città e ai turisti qualcosa di davvero importante. Avevamo in mente di proseguire come fatto negli altri anni con una serie di micro eventi diffusi sul territorio, ma abbiamo poi deciso, anche forti della fine dell'emergenza, di regalare oltre a micro eventi che si terranno su tutto il territorio, che verrà coinvolto, anche di ripristinare il Teatro del Mare, aree più vaste del territorio, dove poter portare avanti anche dei grandi eventi.